I carabinieri della stazione di Ascicastello hanno arrestato un 43enne catanese ritenuto gravemente indiziato in ordine al reato di rapina commesso presso un centro diagnostico di Ascicastello il 16 febbraio 2024 quando intorno alle 17 venne segnalata alla centrale operativa dei carabinieri la rapina presso il centro. Dalle prime dichiarazioni fornite da coloro che avevano assistito ai fatti, confermate poi dalla visione delle immagini di videosorveglianza della zona, i militari sono riusciti ad accertarsi come due uomini vestiti con abiti scuri e con volto coperto da cappello, scaldacollo e passamontagna fossero entrati all'interno del centro dove senza esitazione si erano diretti dietro il banco di accettazione appropriandosi di due cassette metalliche nella quale era custodito un denaro contante. Nell'uscire in fretta dallo studio i due furono inseguiti da un dipendente il quale per bloccarli aveva ingaggiato con gli stessi una colluttazione fino a riuscire a far cadere l'oro di mano le due cassettine. I due aggressori invece erano riusciti a fuggire a bordo di uno scooter facendosi strade trepassanti. Proprio uno dei presenti è riuscito a immortalare così la scena girando un video con il proprio smartphone, video esaminato dai carabinieri e grazie al quale sono riusciti a risalire allo scooter utilizzato dai rapinatori. Scattate poi altre indagini, i carabinieri di Acicastello sono risaliti all'identità del rapinatore stesso. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Palermo-Piazza Verdi nei servizi di contrasto allo spaccio di droga nei quartieri dello Sperone di Ballarò hanno arrestato un palermitano 22enne già noto alle forze dell'ordine con l'accusa di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio notturno nel quartiere Sperone i carabinieri insospettiti dal comportamento di un giovane si sono avvicinati allo stesso sorprendendolo con oltre 15 dosi di cocaina e hashish pronte per la vendita al dettaglio nonché di 350 euro in manconote di piccolo taglio verosimilmente frutto dell'attività di spaccio. Il 22enne arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Nella medesima circostanza il nucleo operativo della compagnia Piazza Verdi ha provveduto all'arresto di un 47enne sempre di Palermo ritenuto responsabile ancora di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato è stato di libertà la convivente una 44enne del posto. Sequestrati dal personale dell'agenzia delle dogane dei monopoli e finanziari del comando provinciale della guardia di finanza di Catania presso l'aeroporto internazionale di Fontana Rossa tabacchi lavorati esteri di contrabbando sprovvissi di contrassegno dello Stato italiano che hanno portato a tre arresti e una denuncia. Nello specifico nell'ambito delle attività istituzionali volte alla repressione dei reati tributari ed extratibutari svolte quotidianamente presso l'aeroporto internazionale di Catania Fontana Rossa la guardia di finanza e le agenzie delle dogane hanno pianificato attività congiunte dirette a sottoporre a un accurato screening viaggiatori in arrivo nello Scaletneo con voli in transito provenienti dalla Grecia. Le attività di controllo hanno consentito così di selezionare presso lo Scaletneo nel periodo aprile-luglio 2024 quattro passeggeri, tutti di nazionalità bielorussa provenienti da più parti della Grecia, rinvenendo nei loro bagagli tabacchi lavorati esteri di contrabbando sprovvissi di contrassegno di Stato. Le sigarette rinvenute sono state sequestrate, tre degli autori del reato di contrabbando tratti in arresto e posti a disposizione dell'autorità giudiziaria etnea e il quarto denunciato a piede libero per il medesimo reato che prevede la reclusione da due a cinque anni. L'admirata attività ha permesso in sintesi di effettuare sequestri per circa 215 grammi di tabacchi, mentre quattro soggetti responsabili dei fatti deliziosi saranno sanzionati con una multa di 5,16 euro per ogni grammo convenzionale di tabacco trasportato. Scoperti dalla polizia di Stato di Catania, una sala scommessa e abusiva con detenzioni di materiale pirotecnico privo di marcatura CE, è denunciato un 45enne. Percorrendo via le Moncada, gli agenti hanno notato un gruppo di giovani stazionare nei pressi di uno stabile che alla vista dei poliziotti hanno tentato di dileguarsi, ma sono stati prontamente bloccati. Gli agenti si sono accorti che all'interno di un garage era stato dibito a una sala scommessa del tutto abusiva. Rinvenendo all'interno del locale, un computer collegato a un accurato sistema di videosarveglianza esterno, sei computer utilizzati per effettuare scommesso online e una busta di carta contenente circa 30 amici artigianali detenute legalmente. Sul posto, nonostante si dichiarasse strano all'attività illegale, è stato identificato così il 45enne catanese pregiudicato, nei confronti del quale sono state levate diverse contestazioni amministrative per un ammontare di circa 70.000 euro, con il relativo sequestro amministrativo di tutti i conviuti e rinvenuti. Il materiale esplosivo, invece, è stato sottoposto a sequestro e il 45enne denunciato è stato di libertà. 4 milioni di euro per la concessione del contributo in favore delle IPAB, gli istituti di pubblica assistenza e beneficenza, al fine del garantire il pagamento degli stipendi del personale delle strutture stesse, che si trova in larga parte in grave difficoltà economica. L'assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha pubblicato un avviso rivolto anche agli enti che non hanno raggiunto l'equilibrio economico-finanziario nell'esercizio precedente. Anche quest'anno, dichiara l'assessore Nuccia Albano, abbiamo previsto le somme per fronteggiare gli oneri derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti regolarmente assunti. Abbiamo il dovere di tutelare il personale, ha aggiunto l'assessore Albano, che con un grande segno di abnegazione svolge un'importantissima funzione sociale per il territorio. Prenderà il via il prossimo 12 luglio da Comiso il Roadshow Conoscere per crescere, un'iniziativa promossa dall'assessorato delle attività produttive della regione siciliana in collaborazione con lo sportello Sprint, volta a favorire l'internazionalizzazione delle imprese locali. L'evento rappresenta una straordinaria opportunità per le aziende siciliane, ha dichiarato l'assessore Edith Amaio, che intendono espandere i propri orizzonti verso i mercati esteri, offrendo i loro strumenti, conoscenze e contatti necessari per affrontare con successo le sfide globali. Attraverso questo, Roadshow ha continuato l'assessore Edith Amaio, intendiamo fornire alle aziende siciliane gli strumenti necessari per affrontare con successo i mercati esteri. Comiso e tutta la provincia di Siracusa, con la sua tradizione imprenditoriale e la sua posizione strategica verso i mercati orientali del Mediterraneo, continua Edith Amaio, è il luogo ideale per dare inizio a questa serie di incontri. Il nostro obiettivo è quello di creare un ecosistema favorevole all'internazionalizzazione, mettendo in reto imprese, istituzioni e operanti del settore. Solo attraverso una sinergia concreta, ha concluso l'assessore all'attività produttive della regione siciliana, potremmo sfruttare le potenzialità del territorio e delle nostre eccellenze produttive. Intanto, dopo la prima tappa a Comiso, il Roadshow proseguirà con altre tappe nelle principali città siciliane, offrendo alle imprese locali ulteriori occasioni di confronto e di formazione. Esposizione straordinaria del simulacro di Santa Lucia La deputazione della Cappella di Santa Lucia ha deciso come tradizione di effettuare tre aperture straordinarie nei mesi di luglio, agosto e settembre. L'apertura della nicchia, nello specifico che custodisce il simulacro della chiesa da cattedrale, avrà luogo domenica 14 dalle 8 sino al termine della messa delle ore 19. Nei mesi estivi il simulacro di Santa Lucia viene esposto per consentire ai fedeli, soprattutto a coloro che ritornano a Siracusa, di rivolgere un saluto e una preghiera alla patrona. Le messe saranno celebrate alle 8, alle 11.30 e alle 19, con la chiusura al termine della celebrazione del simulacro. La deputazione ha deciso che le altre aperture straordinarie estive saranno domenica 11 agosto e domenica 8 settembre, sempre con le stesse modalità. L'apertura della nicchia sarà visibile streaming sulla pagina Facebook della deputazione. Le celebrazioni eucaristiche sono sempre molto partecipate, ha detto il presidente della deputazione della cappella di Santa Lucia, l'avvocato Pucci Piccione. Tanti fedeli entrano nella cappella anche solo per una preghiera alla martire siracusana e molti pellegrini approfittano di queste giornate per manifestare la loro devozione alla martire.